Qui vi presentiamo le 5 migliori palloni da pallavolo. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Vison Super Soft Play, pallavolo unisex adulto. Offre il piacere di giocare a pallavolo senza provare alcun tipo di dolore grazie all'ulteriore tocco morbido della copertura del prodotto sintetico EVA con imbottitura interna in spugna. Adatto a giocatori amatoriali, può essere trovato in una gamma di colori brillanti. È un modello convenzionale pesa 270 grammi e ha un'area di 67 cm. Progettato per una lunga durata, ha un edificio e una costruzione a 18 pannelli. La vescica in gomma butile pubblicizza una canuta ottima. Passando al numero 4. Udora, mega, pallone da Beace Volley. È una sfera da pallavolo blow up di dimensione gigante e il suo diametro è di 40,5 cm. La robusta struttura esterna è costruita in nylon ormi. Estremamente confortevole, con imbottitura extra in schiuma da 4 mm in blu e tonalità rispettose dell'ambiente. Il suo peso è pari a 225 grammi. È immune all'acqua ed è anche ottimale per giocare sulla spiata. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Erima Palla da Pallavolo King of the Beace. È la sfera ottimale per i concorrenti nella stagione estiva ed è anche realizzato in microfibra può con combinazioni soft touch. È apprezzato per la sua tenacità, garanzia di lunga durata. Dal design elegante, ha una camera d'aria addominale e gutile. Almostat è top of our list at number 2. Molten V5 M4000, pallone da pallavolo. È una versione ideale per la formazione specialistica e anche per le attività universitarie. La procedura è cinque. L'area monta a 65, 67 cm e il peso è di 260-280 grammi. La copertura esterna è in pelle naturale artificiale poi in microfibra di alta qualità con pannelli fermosamente sigillati. Ha una vescica di gutile a doppio strato. E infine il numero 1 della nostra lista. Mikasan va a 200 pallone vollei. Queste sono le autorità e la palla speciale con impegno di utilizzo per tutte le partite. Costruito in microfibra Pumotto Mor. Ha una costruzione a 8 pannelli performante. La struttura all'avanguardia della superficie esterna con fossette migliora la tenuta. La minore potenza di influenza promuove un controllo significativo e un'elevata sicurezza. Morbido oltre che equilibrato, garantisce ottimi risultati nelle fasi di servizio, di presa e di trasorda. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.